Ieri parlavamo di un possibile addio di Pecchia, no? E da ieri mi sto scervellando per riuscire a ipotizzare chi potrebbe essere il nuovo allenatore del Parma se dovesse andare via Pecchia. E ho trovato il nome giusto, ragazzi. È il nome perfetto, veramente. È un attore fantastico, favoloso, che da anni, sto dicendo, che è veramente di grandissima prospettiva e promettente. E lo so che qualcuno stoccerà il naso perché ha allenato una squadra che a noi sta sul cazzo, lo so. Però non c'entra veramente niente perché è un attore da non farsi sfuggire perché avrà un futuro clamoroso, secondo me. Ne sono convinto. E cioè Aimo Diana. Lo so, ragazzi. Lo so che ha allenato la Reggiana, ma non c'entra niente. Spesso abbiamo preso i giocatori più buoni dalla Reggiana, sono venuti da noi e hanno fatto da Dio. Non c'entra niente. Poi è stato anche un nostro ex giocatore. Ragazzi, Diana è un attore clamoroso. Non dobbiamo assolutamente lasciarselo scappare. Questo c'è un futuro clamoroso. È fortissimo, è bravissimo. E dobbiamo assolutamente prendere. Aimo Diana, allenatore giusto per il parco.